Sono Alexei e Francesco, due dei protagonisti del salvataggio delle piccole gemelline di Stella. Anche per loro una mattinata di riposo dopo una nottata davvero incredibile. Quando vi siete messi in marcia per cercare queste piccole? Io ho tornato da Udine, sono venuto a sapere di cosa era successo, più o meno alle 11. Parto subito per Stella, però la strada è chiusa, allora torno a casa, Francesco mi scrive vengo anch'io, passo a prenderlo e facciamo un giro intorno in modo da evitare il traffico principale e da lì è cominciata tutta la storia insomma. Vi siete incamminati tra i sentieri del bosco e poi com'è andata? Sì, abbiamo incontrato Silvio, questo signore che abbiamo ancora a trovare, che abbiamo un po' perso e sì, con lui abbiamo preso un sentiero sterrato e da lì è cominciata un po' la nostra avventura. Che segnali avete avuto che potessero essere lì proprio in zona? Abbiamo cominciato a sentire da molto lontano neanche delle voci chiare, più che altro degli stridi che potevano essere appunto quelle di due bambine. Abbiamo cominciato ad avvicinarci, si pensava, siccome c'erano anche urla di altri gruppi che fossero altri gruppi ad averle trovate, però ovviamente abbiamo continuato verso le voci e alla fine siamo stati noi a trovarle. Loro erano lì con il loro pitbull a vegliarle? Sì, con Margot, molto tranquille, infreddolite, però siamo stati contenti di trovarle veramente sane. Stavano dormendo? Sì, stavano dormendo fino a che non le ho svegliate io urlando il loro nome, infatti mi hanno detto che sono stato io a svegliarle. Poi vi hanno abbracciato, come si sono comportati? No, erano un po', non sappiamo cosa fare, bambine di 4 anni secondo me non si sono neanche accorte di ciò che era accaduto e erano molto tranquille.